buongiorno a tutti oggi ci troviamo in bico primo san giovanni e più precisamente nel lato di casavatore centro storico alle spalle della chiesa san giovanni battista per mostrarvi questo nuovo appartamento l'appartamento è ubicato al secondo piano in uno stabile familiare ed è totalmente ristrutturato si compone di un ingresso all'interno di questa zona salone su questo lato abbiamo l'ambiente cucina tutto totalmente ristrutturato in ottime condizioni fermo autonomo con caldaia l'appartamento rega un'esposizione esterna a mezzo di questa ampia balconata che abbraccia tutti quanti gli ambienti dell'abitazione napoletane in ferro infissi in alluminio e doppio vetrocamera dal lato del soggiorno abbiamo ben divisa a mezzo di questo disimpegno la zona notte che ci conduce a un primo bagno finestrato dotato di piatto doccia da questo lato poi abbiamo la presenza di due camere da letto ecco la prima camera da letto di generosa metratura dotata di termosifoni su questo lato abbiamo la presenza della porta scrigno con vetro anche questa camera espone esternamente alla balconata presenza delle zanzariere da quest'altro lato a mezzo di questa comoda scalacchioccio saliamo al piano sovrastante dove abbiamo la presenza di una seconda camera da letto avendo due finestre ed è dotata di una comoda e pratica cabina armadio l'appartamento inoltre è dotato di un ampio box auto di circa 21 metri quadri con ingresso all'interno della porte del fabbricato assolutamente idoneo per il rimessaggio di tutte le vostre auto se vuoi sapere di più e fissare una visita sul posto non esitare a contattarci ai numeri in sovrimpressione ti aspettiamo a presto grazie a tutti